A Palazzo Corner Mocenigo in Campo San Polo a Venezia, sede del Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, si è svolta in collaborazione con la sezione di staccata del Museo Storico del Corpo una giornata di studi in occasione dei 300 anni dalla morte del centunesimo doge della Repubblica di Venezia, Giovanni II Corner, tra i più illustri esponenti della famiglia Corner del ramo appunto di San Polo. Una giornata di studi su un protagonista della storia di Venezia organizzata dalla Guardia di Finanza in una sua sede forse la più prestigiosa. Un'altra occasione per declinare i concetti di cultura e legalità viene spontaneo chiedere al generale di Corpo d'Armata Bruno Buratti, comandante interregionale dell'Italia Nord Orientale della Guardia di Finanza. Cultura e legalità sono per noi un binomio inscindibile. Perché cultura significa consapevolezza e legalità significa regole. Quindi dunque consapevolezza dell'importanza delle regole che sono alla base della convivenza civile e del progresso. Non può esserci progresso se non c'è il senso di appartenenza ad una comunità. Una comunità esiste nella misura in cui tutti quanti i suoi componenti accettano nell'interesse comuno di rispettare delle regole. Noi siamo un Paese di diritto nel quale le leggi sono democraticamente approvate e condivise e il nostro compito nel settore della polizia economico-finanziaria è quello di tutelare e preservare il perimetro della legalità che consente al Paese un sano sviluppo e quindi un aumento di benessere per tutti. Tutto questo passa attraverso la consapevolezza della nostra storia e delle nostre radici alla quale la Guardia di Finanza intende dare un contributo anche divulgando e facendo cultura. E appunto in questo senso la Guardia di Finanza a Venezia ha scritto pagine importanti della sua storia a generale Buratti. La presenza della Guardia di Finanza a Venezia è assai risalente nel tempo. Sin dai tempi della Serenissima Repubblica possiamo trovare le origini del nostro lavoro perché una Repubblica che fondava la propria fortuna sul commercio naturalmente vedeva nel commercio illegale, nel contrabbando, un attentato al proprio benessere e alla propria sopravvivenza e quindi affidava sin da allora a corpi specializzati la vigilanza in questo settore. Abbiamo un luogo storico della città che è la punta della Tocana attraverso cui passavano tutte le merci per pagare i tazzi e naturalmente c'era chi cercava in tutti i modi di evitare questi controlli. Ebbene su quella stessa punta della Tocana noi abbiamo avuto per molto tempo un nostro comando e vi sono delle bellissime immagini di fine Ottocento che raffigurano i finanzieri di Guardia. La Guardia di Finanza come oggi la conosciamo trae la sua origine dall'imperiale reggia Guardia di Finanza dell'impero austro-ungarico poi divenuta reggia Guardia di Finanza con l'unità d'Italia che noi sappiamo in questi territori risalire al 1866. Noi siamo alla Giudecca, sull'isola della Giudecca sin dal 1868, la nostra caserma storica quella in cui è più risalente l'insediamento della Guardia di Finanza e ci troviamo in questo meraviglioso palazzo storico da oltre 100 anni. È pertanto corretto dire che anche per questo la Guardia di Finanza si sente particolarmente legata a Venezia, generale Buratti? Assolutamente, la nostra presenza in questa città è una presenza avvertita nelle nostre tradizioni, noi ci teniamo ad esserci, abbiamo il privilegio e l'onore di occupare delle sedi storiche e occupandole anche di preservarne le caratteristiche, le vogliamo rendere fluibili alla cittadinanza, alla collettività e riteniamo che prestare il nostro servizio per la città garantendo la legalità e l'ordinario sviluppo di questa città sia ciò che ci è dovuto proprio per ricambiare l'affetto che questa città ci riserva sin da quando noi operiamo in questo territorio. Il 111esimo doge della Repubblica Veneta Giovanni II Corner, a 300 anni dalla sua morte, è stato ricordato nel suo palazzo, oggi sede del Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, una pagina di storia e cultura di legalità da conoscere e condividere. Ma come nasce questa passione per la cultura? Lo chiediamo al Comandante Regionale Veneto della Guardia di Finanza che ha sede nel Palazzo Corner Mocenigo, il generale di divisione Giovanni Mainolfi che ha fortemente voluto questa giornata di studio. La passione per la cultura nasce da un'esigenza imprescindibile che oserei dire è nel mio DNA, non tanto perché sono finanziere, ma perché credo che la cultura è l'anima del progresso, è l'anima dell'uomo, ma soprattutto la cultura è lo strumento per affermare che esiste qualcosa che si chiama legalità. Vede, io sono convinto che se tutti rispettassero le regole non ci sarebbe bisogno delle leggi, perché le leggi intanto ci sono perché c'è qualcuno che non rispetta le regole. E allora le regole si basano anche sulla cultura, le regole sono l'espressione del momento, della composizione di certi equilibri in un certo momento storico. Allora occorre cultura, ma la cultura da sola non va da nessuna parte, perché la cultura è la base ed è il senso della legalità, perché chi ha cultura rispetta le regole e quindi è una persona legale. Io sono un finanziere però, sono anche un finanziere, per me la cultura è diventato lo strumento per veicolare un messaggio di legalità. Vede, quando nel 2008 ho deciso di fare di questa sede un museo storico, io l'ho fatto con il preciso intento di aprire attraverso la cultura questo palazzo storico alla città di Venezia, ma non solo, a tutti quelli che transitano in campo San Polo, affinché possano capire che attraverso la cultura io faccio anche legalità, educazione alla legalità meglio. E questo è stato un successo straordinario. Vi do un dato. Io ho creato un sito che si chiama www.palazzomocenico.it Questo sito in 15 mesi ha avuto 900.000 visite. Delle 900.000, 800.000 sono state visite per più di 6 minuti, il che significa che non sono visitatori occasionali che si sono imbattuti nel sito Palazzo Cornel Mocenico, ma sono persone che una volta che hanno visitato il sito si sono soffermati nel sito. E questa è una vittoria straordinaria. Vede, le mostre che noi facciamo, quella mostra che oggi voi avete potuto vedere, in soli due giorni ha avuto mille visitatori. Mille visitatori è una cosa fantastica. Mille persone sono entrate dalla Guardia di Finanza e hanno apprezzato come la Guardia di Finanza utilizza la cultura. Oggi abbiamo voluto, nella manifestazione che abbiamo fatto oggi per i 300 anni della morte di Giovanni II Corner, abbiamo voluto riportare qui un pezzo di storia, perché quel busto che era esposto sotto, nel 1800 era in questo palazzo. Per l'illegalità di qualcuno, quel busto è stato trafugato. Noi lo abbiamo intercettato in una casa d'aste a Viterbo. Qualche soggetto veneziano di buon animo ha fatto una colletta tra imprenditori, sono stati reperiti i fondi e quel busto è stato comperato a 36.000 euro. Attenzione, il busto in realtà non era stato aggiudicato a Venezia, ma poiché si è saputo che la Guardia di Finanza aveva messo gli occhi su quel busto, chi se l'era aggiudicata ha rinunciato, dice, io non lo voglio questo busto, prendetevelo voi per il prezzo di aggiudicazione. Perciò questo busto è ritornato a Venezia. Allora, questa è cultura, questa è legalità. E non può esserci davvero ombra di dubbio che una sede di prestigio come Palazzo Cornermo Cenigo rappresenti l'habitat, se così possiamo dire, l'ideale per sentirsi perfettamente a proprio agio nello svolgere un lavoro essenzialmente fatto di cultura e legalità. Generale Mainolfi. Assolutamente sì. La legalità è lo strumento, la legalità e la cultura sono un binomio inscindibile. e sono i due strumenti che hanno nell'animo del finanziere un carattere pervasivo. Pensi che i miei uomini, i 200 uomini che lavorano in questo palazzo, oggi hanno l'orgoglio di venire a lavorare in questo palazzo e lo testimonia un fatto. Il sabato e la domenica, quando il palazzo è visitabile in maniera massiva dalle 9.30 di mattina fino alle 17 di pomeriggio, io ho un problema. Sa qual è il problema? che i militari vorrebbero essere di servizio per accompagnare i visitatori all'interno del palazzo. E questa è una cosa semplicemente fantastica, perché il sabato e la domenica sono fatti per riposarsi, per stare a casa con i propri cari. Quindi quei militari che mi chiedono di fare servizio il sabato e la domenica lo fanno con orgoglio. E sono militari che hanno sedimentato dentro di sé l'importanza di essere qui. Ne potrebbero fare a meno. In fondo è un'opera di volontariato. Invece loro mettono a disposizione il loro tempo per diffondere la cultura e per far conoscere qual è l'istituzione in cui lavorano. E di che cosa è in grado questa istituzione? È in grado di favorire, o meglio dire, creare una sezione museale e in Palazzo Correr Mocenigo addirittura uno spazio espositivo anche per l'arte di ogni tempo, più in generale di notevole pregio artistico, solo per dire dai presepi d'arte alle prestigiose esposizioni nel figurativo generale Mainolfi. Questa è stata un'idea che avevamo ben chiara quando abbiamo parlato prima del binomio cultura-legalità-legalità-cultura ci siamo chiesti quali potevano essere i mezzi, quali potevano essere gli strumenti per veicolare questo messaggio. E lo abbiamo trovato sicuramente nelle mostre, lo abbiamo trovato sicuramente nella scrittura di opere, il libro che è stato presentato oggi, nell'esempio, che sono gli strumenti divulgativi di cui noi ci siamo serviti per realizzare questo obiettivo. Ci siamo accorti ad un certo punto che c'è fame di cultura in giro, perché la cultura che noi diffondiamo è una cultura che diffondiamo a costo zero. Il visitatore viene dentro alla Guardia di Finanza senza spendere un centesimo. E l'esempio è stato che la mostra che noi abbiamo fatto su Francesco Morosini ha avuto ben quattro repliche alla polveriera francese, alla polveriera austriaca Forte Marghera, alla Torre Civica a Mestre, al Museo a Testino a Este. Anche la mostra che è allestita attualmente e che quindi sarà smobilitata la prossima settimana, probabilmente una parte sarà riproposta altrove, perché non siamo riusciti a soddisfare tutta l'utenza che voleva venire, perché dobbiamo cercare ad un certo punto di ricordarci sempre che noi siamo una caserma. Essendo noi una caserma, dobbiamo contingentare gli accessi. Siamo in epoca ancora di pandemia e quindi qualcuno che non aveva il Green Pass non è potuto entrare in questa caserma. I gruppi non potevano essere gruppi più numerosi di 15 persone, quindi qualche rallentamento lo abbiamo avuto. Qualcuno magari aveva una fascia orale di due ore e non è riuscito a vedere la mostra e ci chiede, ma possiamo vedere qualcosa? Bene, ci sarà probabilmente una replica. Quindi questo è un altro aspetto straordinario di questa opera che noi stiamo facendo. Quindi le mostre, le pubblicazioni come mezzo per veicolare la cultura e non dimentichiamoci mai la legalità. La mostra che adesso è in atto è una mostra in cui il binomio cultura-legalità si lega attraverso il contrasto al falso. All'ingresso della caserma, avrete notato, ci sono i due angoli dei falsari. L'angolo del pittore che realizzava dei falsi depero e l'angolo dell'expertise di colui il quale realizzava l'expertise per dire che quella è un'opera autentica. No, è un'opera assolutamente falsa. E quindi anche qui abbiamo trovato il modo di far vedere il falso, come si realizza il falso, dare il senso plastico di che cos'è il falso, perché ci sono alcuni quadri che sono falsi, e poi proporre il vero, la mostra che avete visitato. La Guardia di Finanza ha la sua prestigiosa sede caserma nel nobile palazzo nel quale vissero tre dei quattro doji Corner. Notevole e storicamente unica l'iniziativa di dedicare una giornata di studi al centundicesimo doge della Repubblica Veneta, Giovanni II Corner, e a 300 anni dalla sua morte, ricordarlo con una pubblicazione. Guardia di Finanza è appunto cultura, legalità, ma non solo, generale, ma in Olfi. No, la Guardia di Finanza è qualche cosa in più. La Guardia di Finanza è un pezzo delle istituzioni dello Stato di cui dobbiamo essere orgogliosi, che insieme ad altri pezzi di istituzioni, quindi insieme ad altre istituzioni, realizza quello che è una società civile, una società che può essere degna di questo nome, nel senso che è una società in cui certi valori hanno un senso, certi valori vanno tutelati, certi valori vanno alimentati, perché la cultura va anche alimentata. Che senso ha celebrare oggi il trecentesimo anniversario della morte di Giovanni Corner? Ha un senso profondo. Ci ricorda che qui dentro c'è stata la storia, in questo ufficio dove noi siamo, ha lavorato un doge. Per me è un orgoglio essere nello stesso posto dove probabilmente c'era la scrivania del doge. La sala di fronte è la sala degli ambasciatori, è la sala dove le ambasciate straniere venivano in visita al doge per gestire gli affari domestici, affari privati, affari pubblici. E quindi è semplicemente un orgoglio. Cioè, camminare in questi luoghi, vivere in questi luoghi, significa respirare la storia. Vede, questo ufficio è pieno di opere d'arte. Qualcuno oggi ha ricordato come questo palazzo nel 1600 avesse la collezione d'arte più ricca. Il nostro obiettivo è quello di cercare di restituire questo palazzo il più possibile come era alla città di Venezia. E noi lo stiamo facendo un po' con la volta. Alcune opere che sono state mostrate, le opere del Tiepolo, che sono esposte nella sala degli specchi, nella sala in cima alla scala tipo del bovolo, sono la dimostrazione plastica di come noi abbiamo a cuore questo palazzo. Questo palazzo è la storia e noi siamo orgogliosi di alimentarla, questa storia. Vede, questo palazzo, posso dire con orgoglio, oggi credo sia l'unico palazzo di Venezia che, a parte il Mose, non teme più l'acqua alta. Perché? Perché abbiamo creato un sistema per cui l'acqua non può più entrare in questo palazzo. Abbiamo creato un sistema di 14 paradiglie. Sembra una cosa banale, però intanto nel 2019, quando io ero appena arrivato, questo palazzo ha avuto 60 centimetri di acqua al piano del Reno. Dopo quella volta ci siamo interrogati ma che possiamo fare noi per difendere questo pezzo di storia? Benissimo. Abbiamo speso qualche decina di migliaia di euro, abbiamo fatto delle paratie, abbiamo risistemato la porta d'acqua, abbiamo dato una pendenza in un angolo, abbiamo creato una pozzetta di raccolta, 40.000 litri di acqua l'ora, quella che affiora dal terreno, perché a Venezia la marea non arriva dall'alto, ma l'acqua bullica dal terreno, l'acqua viene raccolta in questa pozzetta e al malapena si bagnano i lati perché avrete notato la porta d'acqua è fatta a schiena d'asino, quindi nella parte centrale si può camminare sempre tranquillamente, non ci si bagna mai. Ecco, questo è il senso di vivere in un palazzo come questo. Questo è un orgoglio poter fare queste cose ed è un onore, se mi è consentito, per me aver avuto la possibilità di vivere in questo palazzo. Grazie. 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 Grazie.